Riapre il castello vichiano Palazzo de Vargas a Vatolla, luogo memore di Giambattista Vico che li soggiornò e li fece il maggior corso degli studi suoi. All'evento organizzato dalla Fondazione Giambattista Vico in partenariato con il gruppo di azione locale Cilento Regenerazio, hanno preso parte l'assessore Pasquale Sommese, insignito durante la serata del premio speciale Giambattista Vico per il suo impegno nella promozione turistica e culturale del Cilento. Francesco Rossi, magnifico rettore della Seconda Università degli Studi di Napoli a cui è stata conferita la cittadinanza onoraria del Cilento e Paolo Cirillo, consigliere di Stato di origini cilentane che ha tenuto la prolusione La cultura nell'ordinamento giuridico. La serata è stata inserita nelle manifestazioni previste per Tracce di Giambattista Vico edizione 2013, attraverso cui la Fondazione intende promuovere l'immagine culturale e turistica della Campania a livello nazionale ed internazionale, facendo conoscere sia la filosofia e la storia di Giambattista Vico, sia i luoghi, le vicende e le tradizioni del Cilento. La Fondazione Giambattista Vico è un istituto di alta cultura e promuove non solo il pensiero di Giambattista Vico, la storia locale, ma vuole anche promuovere il turismo sostenibile di questo Cilento bellissimo, che è culla di filosofia con Barmeni del Zanone e Giambattista Vico, ma anche delle bellezze, ha un mare stupendo, ha dei paesi interni conservati benissimo, è un territorio bellissimo che va promosso e valorizzato. Il gruppo di azione locale è quello di promuovere gli aspetti locali, sia sotto l'aspetto turistico che enogastronomico. Oltretutto questo nostro galle è un galle che raccoglie intorno a sé 38 comuni, due comunità montane, tre STS, una società pubblico-privato idonea a fare promozione per l'intero territorio cilento. Questa è la scommessa che ci siamo dati come galle, questa sera abbiamo avuto anche l'assessore sommese che vuole scommettere insieme a noi, una scommessa che credo si possa realizzare a breve. Questa sera visitiamo qui questo straordinario castello e credo che dobbiamo lavorare in una direzione che mira soprattutto a creare reddito, economia, sviluppo e il nostro petrolio. Lo dobbiamo fare e dobbiamo investire su quelle che sono le precondizioni al successo turistico, dei vari turismi della nostra regione, turismo balneare, turismo culturale, archeologico, paesaggistico, enogastronomico, religioso, congressuale e purtroppo siamo primi in tutte queste bellezze ma registriamo ancora una carenza perché non si riesce a fare sistemi e non assurgiamo a quelle che sono le classifiche più alte e che noi dobbiamo mirare.